Dopo una rapina in un supermercato si è dato alla fuga. Un 38enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Il GIP ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. I poliziotti della sezione volanti della questura di Caltanissetta, in collaborazione con quelli del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì, hanno tratto in arresto un 38enne gravato dai pregiudizi di polizia nella flagranza di reato di rapina impropria, denunciandolo anche per minaccia. L'uomo all'interno di un supermercato del capologo Nisseno sarebbe stato sorpreso da personale dell'attività commerciale mentre si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali. L'uomo che avrebbe riempito una borsa di merce dopo aver minacciato il cassiere di bruciargli la macchina se avesse avvisato le forze dell'ordine, sarebbe uscito dal supermercato senza pagare, allontanandosi con l'automobile. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato che, raccolta le testimonianze dei presenti, ha diramato la nota di ricerca dell'uomo. Dopo gli accertamenti del caso, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì hanno intercettato l'uomo presso la propria abitazione, nella quale, a seguito di perquisizione, avrebbero sequestrato 21 pezzi di parmigiano in confezioni termosaldate e tre bottiglie di liquore di una nota marca. Su disposizione del pubblico ministero presso la procura della Repubblica di Agrigento, il 38enne è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento ha convalidato l'arresto e ha applicato all'uomo la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.